Ciao a tutti ragazzi sono Luke e questo è un altro mini video per quanto riguarda il server Allora, no questo è il mio canale, non c'entra niente Prima di cominciare volevo chiedervi, dirvi di continuare ad iscrivervi al mio forum, siamo già in tanti E' sempre uguale, ho solo aggiunto la chatxat Che è un pochino più divertente Per cui cliccate sui banner se volete sostenere il sito e votate il sito qua in alto a sinistra Detto questo, il server, come tutti sapete ho aperto un server da quasi una settimana Hanno costruito un bel po' Adesso sono dentro ma laggo per cui è meglio che non mi muovo perché sto caricando anche un video Ciao Luke, a sinistra trovi una casa, l'ho fatta per te e guarda anche nel tetto Va bene lo guarderò dopo, grazie Fuzion Dicevo, ho questo server però è mio e devo dirvi una cosa ragazzi Mi arrivano un sacco di critiche, a parte tanti complimenti per cui vi ringrazio tutti Ma mi arrivano allo stesso tempo un sacco di critiche Perché sono stato bannato, perché ho fatto questo, mi fai hop, se no mi fai hop non posso giocare Cioè ragazzi, allora io tengo il server aperto dalla mattina alla sera Con il server aperto, o stato da me, io non riesco a fare le mie cose Se voglio giocare non posso, se voglio caricare video non posso, tante cose non posso farle Per cui, cioè non lo so, abbiate un po' di rispetto Perché io sto facendo tutto questo per voi ragazzi, non per me Perché io non sono come vedete nel server a giocare come giocate voi Io lo tengo aperto solo per voi, ma non riesco a fare neanche le mie cose Per cui non mi mandate più critiche, non mi fate più quelle domande deficienti diciamo Perché quello che faccio lo faccio per voi E invece di dirmi grazie a Luke, mi mandate pure le critiche e addirittura anche insulti a volte Va bene, lasciamo stare, non voglio incazzarmi Perché ho da farvi un annuncio Molto probabilmente questo server lo chiudo Lo so che non volete perdere la mappa, ragazzi io farò una bella cosa La mappa ve la metto in download, così ognuno di voi se la può scaricare e giocarci da solo O aprirvi un vostro server con quella mappa Però voglio fare una cosa un po' più carina Allora, vorrei acquistare un server, ho stato Un server a pagamento Attenzione, pagamento non vuol dire che chi entra paga Pagamento vuol dire che il server bisogna pagare un affitto mensile Lo pagherò io Non vi preoccupate Vedo di quanti slot farlo ragazzi, dipende anche da quanto è in tasca Non vi lamentate se qualcuno non riesce ad entrare Ma più di quello non posso fare Ma per quello ne parleremo più avanti Allora, questa cosa la vorrei fare quando arriverò ai 500 iscritti Per il momento sono a 244 mi sembra Ah, 444 scusatemi Per cui lo inizierò quando avrò 500 iscritti Vi farò questo speciale Un server, come ho già detto, stato Aperto 24 ore su 24 con tutte le protezioni Problema, più che problema vorrei un aiuto Chi se ne intende di queste cose O chi lo ha già aperto e per cui ha avuto a che fare in queste cose Mi faccia saperla più presto in privato Ne parleremo in privato Datemi dei consigli perché ragazzi io in queste cose sono veramente negato Non lo so sinceramente Per cui vorrei una mano da voi Consigli, aiuti, fate quello che volete Consigliatemi un sito sicuro Dove posso acquistare un server sicuro Non quelli mezze truffe Sicuro e come mettere plugin Come renderlo sicuro da griffer Eccetera Per cui vorrei veramente una mano ragazzi Sceglierò anche degli hop Nel server Ma ripeto, gli hop non sono per costruire Ma sono per controllare Poi se riesco agli hop farò anche Non lo so, dei regali Vedremo Di quello poi ne parliamo sempre più avanti Vedremo Vorrei fare diciamo una cosa seria ragazzi Una cosa veramente seria, bella e divertente Dove tutti si divertono E non come questo di adesso Che si, tanti si divertono ma tanti no Lo so che mi fate complimenti Non volete che lo chiudo Però ragazzi ne apro una a pagamento Aperto 24 ore su 24 Io potrò continuare a fare i miei video Perché come vedete ho stoppato la hard core Ho stoppato la crazy map Cioè ragazzi tutti mi chiedete Perché non fai altri episodi di crazy map Perché non fai questo Perché non fai quello Mi dite come faccio a farli con il server aperto Mentre laggo Mentre il computer mi va a rallentatore Cioè spiegatemelo Non è per cattiveria ragazzi Però è la realtà Per cui Ripeto ragazzi Per favore Qualcuno che se ne intende veramente Mi aiuti E aspetto vostre risposte Da Luke è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti